ARIGIA 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 Salve! È uno spettacolo qua, eh? A lei per caso gioca? Ma quello? Ma tuo padre? Oddio, che vergogna! Mi ricordo molto bene di quella sua Giulietta. Lasciamo perdere... era solo una dilettante. No, lei mi dispiace contraddirla, ma lei è un'attrice. Come stanno? No, no, è stata Dio. Buonasera a tutti! Può entrare nel nostro fondo. Ma figlio, come fai a leggere il pensiero? Consiglio di non farti vedere in giro insieme a me, perché sono considerato un soggetto socialmente pericoloso. Io il regalo lo faccio volentieri a te. Grazie, Giovanni. Posso firmare, no? No. Ehi. Mi siete scommesso sulla rovina di questo paese e avete vinto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.